Lei, signor Ministro, lo sa che nel suo governo e in questo Parlamento, due hanno parlato prima di me, ci sono persone che non distinguono un bilancio pubblico da un forno a microonde. Lei lo sa, ma noi, in rappresentanza di quello che vogliamo per il futuro di questo Paese, ci siamo stancati di affrontare tematiche così importanti con questa superficialità, con questa approssimazione e con questa ignoranza. Voi state scherzando col fuoco? Attenzione, signor Ministro, perché la responsabilità di quanto sta per accadere o potrebbe accadere, alla fine la storia la segna a nomi e cognomi. Lei è una persona seria, non vorremmo mai che questa responsabilità fosse attribuita a lei. Il Partito Democratico c'è per ogni tipo di manovra che possa assicurare al nostro Paese un futuro di stabilità, di credibilità e di serietà per tutti quelli che ci vivono e che ci vivranno nelle prossime generazioni.